Ciao Domini, benvenuti in questo nuovo video! Io sono Domina Fragola e racconto di storie, cultura e biografie con un tocco nerd. Oggi voglio parlarvi di 10 pirati di One Piece che sono ispirati a pirati realmente esistiti. Perché mi è venuto in mente di fare sta cosa? Perché ho ricominciato a leggere One Piece. Ebbene sì, ho ricominciato a leggerlo dopo anni, mi ero fermata alla saga degli uomini pesce e niente, ho deciso di ricominciare a rileggerlo perché nel frattempo mi ero dimenticata tutta la trama, o più o meno. Quindi ho ricominciato a leggerlo e rileggendolo mi sono accorta appunto che tantissimi pirati di One Piece sono ispirati o nel nome o in altri fatti a pirati realmente esistiti ma anche altri personaggi. In realtà Ichiro Oda ha preso spunto anche non solo dai pirati ma anche ai personaggi televisivi, dei film. Però io vorrei concentrarmi sui pirati realmente esistiti che hanno ispirato Ichiro Oda per creare alcuni suoi personaggi. Io ho deciso di portare solo i primi 10, i primi 10 che io ho incontrato fino ai primi 33 volumi del manga perché io sono arrivata a rileggere One Piece fino al 33. Se ne ho dimenticato qualcuno assolutamente scrivetelo nei commenti. Bando alle ciance perché già sono 10 so tanti e già io faccio video lunghi quindi iniziamo. Il primo pirata di cui parliamo oggi è il pirata che ha iniziato la saga di One Piece, non Rufy ma Gold di Roger. Gold di Roger è il re dei pirati One Piece, il re dei pirati che ha conquistato il One Piece appunto il tesoro e poco prima di essere giustiziato dalla marina ha sfidato tutti quanti a trovare il suo incredibile tesoro il One Piece. E da lì parte la storia praticamente perché tutti i pirati dopo vorranno cercare il One Piece come anche Rufy il protagonista. Il pirata, anzi i pirati realmente esistiti che hanno ispirato la figura di Gold di Roger in realtà appunto sono due. Il primo è Henry Avery e il secondo è Oliver Lavassier. Ora io ho fatto un intero video su Henry Avery che vi linko qui. La sua storia è pazzesca. Nello stesso video vi ho anche citato Oliver Lavassier perché in quel video parlo proprio di questi due pirati che hanno ispirato Gold di Roger in particolare di Henry Avery però. Però comunque vi voglio almeno accennare che Henry Avery nella realtà è appunto detto il re dei pirati perché riuscì a conquistare un immenso tesoro e non solo ma divenne anche a causa di ciò nemico mondiale dell'umanità. Come è successo tutto questo vi invito a guardare il video. Sempre nello stesso video accenno anche però al secondo pirata che ha ispirato Gold di Roger ovvero Oliver Lavassier. Un pirata francese con una benda sull'occhio anzi è il pirata con la benda sull'occhio perché c'era una cicatrice sull'occhio proprio da lui prenderà tutto l'iconic stile del pirata con la benda ma non è famoso ovviamente solo perché ha una benda sull'occhio ma perché anche lui catturò un incredibile tesoro catturò un galeone spagnolo che conteneva immense ricchezze. Forse addirittura il tesoro di Lavassier era ancora più grande di quello di Henry Avery però Lavassier catturò questo galeone molto dopo Henry Avery ma non solo Lavassier ha ispirato Gold di Roger per un'altra cosa anzi forse è il pirata che l'ha ispirato ancora di più perché la leggenda dice che lui aveva con sé un medaglione in questo medaglione c'era un codice e che succede? Lui poco prima di essere giustiziato davanti alla folla prese il medaglione contenente il codice con cui trovare il tesoro del galeone che lui aveva catturato quindi c'era la mappa del tesoro del medaglione lui prese questo medaglione poco prima di essere giustiziato e lo lanciò al pubblico questo medaglione si dice contenesse un crittogramma di 17 righe contenette appunto la mappa del tesoro di Oliver quindi Oliver Lavassier è praticamente colui che ha incitato nella realtà altri pirati o altri avventurieri a cercare il suo tesoro il suo One Piece quindi diciamo che questi due sono i pirati che maggiormente hanno ispirato Ichiro Oda nel creare Goldie e Roger ma continuiamo Roronoa Zoro Roronoa Zoro è ovviamente uno dei pirati della giurma di Rufy il protagonista ed è uno spadacciino ebbene sì anche Roronoa Zoro è stato ispirato a in realtà due personaggi il primo penso si possa dedurre dal nome Zoro cioè da Zorro che anche lui è uno spadaccino non è stato un pirata Zoro è stato un personaggio inventato nel 1919 dallo scrittore McCulley e si tratta appunto di uno spadaccino mascherato che difende la povera giuente contro i funzionari corrotti e tirannici nella Los Angeles ai tempi della California spagnola molto meno intuibile è il cognome di Zoro cioè Roronoa da dove cacchio viene questo cognome assurdo ebbene Roronoa viene da il pirata François Lelonaz che io spero si pronunci così ma tanto tra poco ci consoliamo perché a quanto pare Lelonaz i giapponesi lo pronunciano con RORONOA adesso non potete più dire che io pronuncio male le cose perché i giapponesi mi hanno battuto e sono molto contenta di questo fatemi vantare di questa cosa ma chi è questo François Lelonaz? o come si pronuncia? è stato un pirata francese come si può dedurre dal nome che ha piratato negli anni 60 del 1600 il suo vero nome era Jean-David Neu si pronuncia sicuramente così è meglio noto come François Lelonaz pensate che era famoso già quando era in vita per la sua crudeltà si dice che era solito uccidere i prigionieri anche dopo aver promesso loro salva la vita solitamente bruciandoli vivi oppure scusandoli personalmente con il suo coltellaccio oppure schiacciando il loro cranio con la garrotta che cos'è la garrotta? la garrotta è un simpatico strumento di morte che eliminava la persona tramite angolamento posto un'immagine questa è una garrotta in realtà ce n'erano di varie tipologie in questa immagine si siedevano il malcapitato si faceva sedere e poi si appoggiava il collo lungo il pezzo di legno e poi gli si metteva questo anello al collo e da dietro poi si torceva questo anello e questo anello lo spingeva al collo fino a sbagliare il malcapitato ecco questa è la garrotta ecco bene François Lelonaz e lui non li strozzava così a quanto pare gli spaccava il cranio mettendo la garrotta qui e non qui comunque a parte essere famoso per queste sue atrocità la sua impresa più famosa è il saccheggio della città spagnola di Maracaibo e Gibraltar nell'odierno Venezuela allora noto come vicereame della nuova Granada avvenuto nel 1666 direi una data perfetta andiamo avanti terzo pirata che troviamo lungo il nostro percorso verso il One Piece è Morgan Manodasha anche Morgan Manodasha che in One Piece è a capo della 153esima divisione della Marina al comando della base di Shellstown sto facendo parte della Marina in realtà Morgan dovrebbe essere un personaggio positivo perché la Marina sono i buoni no? no non lo è infatti non lo è né il personaggio di One Piece né il pirata originale anche Henry Morgan cioè il pirata che ha ispirato Morgan Manodasha più o meno era la stessa cosa perché in realtà Henry Morgan è stato un pirata un corsaro e un ammiraglio gallese lui dopo aver piratato in giro nel mare fu nominato governatore della Giamaica allora io devo essere sinceri io Henry Morgan ho letto la sua storia brevemente però mi annoia perché ogni volta che leggo la sua biografia mi addormento lo so lo so sono pessima sono pessima il quarto pirata che incontriamo realmente esistito in One Piece è Zef piedi rossi ebbene anche lui è ispirato a un pirata nella serie One Piece Zef è capo chef del ristorante nave chiamato Barati però nel passato Zef è stato un terribile pirata soprannominato appunto Zef piedi rossi perché era molto bravo a dare calci e i suoi piedi erano sempre sporchi del sangue dei nemici ebbene appunto questo pirata Zef è stato ispirato a un pirata diciamo realmente esistito ma ora vi spiego non si è proprio sicuri comunque è stato ispirato da Red Legs Grievous questo pirata qui è stato un bucaniere scozzese attivo nei Caraibi e nelle Indie Occidentali attivo durante gli anni 70 del 1700 però contrariamente al personaggio di One Piece che appunto si chiamava Red Legs quindi piedi rossi in realtà Red Legs è gambe quindi gambe rosse vabbè perché aveva le gambe o i piedi sporchi del sangue dei nemici il soprannome del pirata originale Red Legs non era dovuto a questo perché Red Legs in realtà era un termine usato per indicare la classe dei bianchi poveri che vivevano nelle Barbados coloniali quindi era riferito a una classe sociale quindi probabilmente questo pirata faceva parte di quella classe sociale di questo pirata in realtà sappiamo poco o niente e non siamo neanche certi che sia realmente esistito perché in realtà questo pirata appare per la prima volta nel 1923 nel libro In the Wake of Buccaneers dello scrittore Beryl però in realtà Beryl non cita alcuna fonte da dove ha preso spunto per questo pirata magari è un pirata di cui ha sentito parlare in qualche storia nei suoi viaggi però non c'è alcuna fonte scritta di che questo pirata sia realmente esistito quindi chissà forse è una leggenda non lo sappiamo quinto pirata di One Piece ispirata a un personaggio reale è Albida Albida è ispirata a una piratessa realmente esistita ci sono state pirate donne e ce ne sono state anche parecchie alcune erano belle toste comunque sempre in ordine la prima donna pirata che troviamo realmente esistita è appunto Albida nella serie One Piece Albida è il capitano dei pirati di Albida quindi lei stessa è il capitano poi entrerà in combutta con Buggy poi lei è un personaggio che si evolverà nel tempo Rufi la incontra che è abbastanza grassottella poi mangerà il frutto del diavolo e diventerà una strafiga da paura come dicevo Albida è ispirata a una piratessa realmente esistita il cui nome è Awilda Awilda è stata una piratessa vissuta verso il 400 dopo Cristo la leggenda narra che Awilda era figlia di un re scandinavo in altre fonti Goto il che succede che essendo una donna e non avendo potere decisionale figurati il suo padre decise che lei si doveva sposare con il figlio del re di Danimarca un certo Alf però lei non voleva sposarsi con sto tizio ma chi lo conosce e quindi giustamente scappa lei e altre donne decisero di scappare e arruolarsi come marinai ovviamente penso travestendosi a un certo punto mentre navigava sul mar baltico Awilda incontra una nave che era rimasta priva di capitano perché questo capitano era morto e Awilda dopo qualche giorno diventa lei stessa capitano dimostra il suo valore diventa capitano di una corma di pirati però che succede che a un certo punto lei diventa talmente pociante che inizia a creare problemi nel mar baltico e quindi il re di Danimarca manda suo figlio Alf cioè il figlio che lei si doveva sposare lo manda a fermare questi pirati questi pirati che stavano imperversando nel mar baltico e quindi Awilda si ritrova ad andare contro Alf lei ovviamente sa chi è lui non sa chi è lei e dopo aver combattuto un po' lei rimane impressionata dal coraggio di Alf e quindi gli rivela la sua vera identità gli dice che lei è Awilda la figlia del re scandinavo che doveva essere la sua promessa sposa e si mettono insieme e vissero felici e contenti credo comunque questa qui in realtà non siamo certi che sia una storia realmente accaduta una leggenda potrebbe essere un mix delle due chissà però è molto affascinante come storia sesto personaggio che incontriamo in One Piece ispirato a un pirata realmente esistito è Portugues di Ace vabbè Ace lo amiamo tutti direi comunque fa parte della ciurma di Barba Bianca ed ha il potere del fuoco ora in realtà Portugues di Ace è ispirato solo nel nome a un pirata realmente esistito perché noi di questo pirata sappiamo poco e niente questo pirata si chiama Bartolomeo il Portoghese basta cioè questo è quello che ha in comune con Ace abbiamo finito no scherzo Bartolomeo il Portoghese è un portoghese ragazzi questo è il primo pirata portoghese che incontro è vissuto verso il 1600 di lui in realtà non sappiamo praticamente niente si pensi che abbia piratato vicino all'Europa abbia fatto qualche ladruncoleria esiste questo termine qualche ruberia in Europa poi non ha avuto successo e quindi se ne ha nato via dall'Europa e partì per i Caraibi dove divenne un noto bucaniere questo è tutto quello che so di sto tizio quindi andiamo avanti iniziamo con qualcosa di un po' più ie ie un po' più interessante Yena Bellamy ebbene sì anche Yena Bellamy è ispirata a un pirata realmente esistito anche in questo caso direi solo nel nome perché in realtà caratterialmente e anche fisicamente sui due personaggi non c'entrano un cavolo tra di loro Yena Bellamy che è biondo ha la faccia sorridente quindi viene chiamato Yena ed è cattivissimo è il capitano della ciurma di Bellamy che mi pare abbia fatto anche parte della ciurma di Don Quixote Flamingo ditemi voi se sto tina cavolata il pirata invece realmente esistito che ha ispirato Yena Bellamy è Samuel Bellamy detto anche Black Sam Bellamy è stato un pirata inglese e tra i pirati più famosi dell'epoca d'oro dei pirati l'epoca d'oro dei pirati è quella epoca fantastica in cui i pirati appunto padroneggiavano nei Caraibi e Bellamy visse proprio in quel periodo e tra il 1716 1718 l'epoca della Repubblica dei pirati e divenne anche all'epoca in cui era in vita uno dei pirati più famosi e temuti tra l'altro la carriera di Bellamy durò sì o no un anno la carriera piratesca però attenzione ragazzi perché Bellamy quando vi dicevo che era completamente diverso dal personaggio di One Piece dicevo anche proprio caratterialmente perché tra i pirati è probabilmente il più buono è il più puccio tra i pirati ecco dovete sapere intanto che Bellamy divenne pirata per amore di una donna decise di andare per mare diventare pirata per accumulare abbastanza ricchezze per poi tornare da lei e vivere felice e contento e così fece Samuel divenne pirata ve la sto veramente riassumendo la storia comunque Samuel divenne pirata divenne uno dei pirati più famosi di il suo periodo riuscì in solo un anno a catturare 53 navi e divenne ricchissimo però divenne anche famoso non solo appunto perché riuscì a catturare così tante navi in un anno ma anche perché come ho detto prima era un pirata buono pensate che era soprannominato il principe dei pirati e divenne noto per la sua misericordia e la sua generosità verso coloro che catturava durante le incursioni diverse testimonianze narrano che ogni volta che conquistava una nave chiedeva di provarla se gli piaceva se la teneva se non gli piaceva la nave la restituiva tranquillamente quando sbarcava per fare rifornimenti praticamente distribuiva le lemosina i bisognosi cioè probabilmente era un santo sto pirata rispetto a tutti quegli altri quindi insomma era conosciuto per la sua gentilezza e generosità quindi sto pirata mi piace ed era soprannominato black sam bellamy perché lui praticamente non portava i parrucconi che andavano di moda nel 1700 quelli belli pomposi no? a me fanno ridere quei parrucconi vi dirò ecco lui non li portava lui semplicemente andava in giro con i suoi bei capelli corvini al vento semplicemente legati con un laccio quindi lui niente parrucche solo capelli sciolti al vento e neri mi piace un'altra curiosità su bellamy ragazzi questo pirata è famoso è la sua bandiera dovete sapere che la bandiera dei pirati la jolly roger per eccellenza che voi conoscete tutti conoscono in realtà è la jolly roger di samuel bellamy la sua e di un altro pirata mi pare di edward england però la bandiera dei pirati che tutti noi conosciamo in realtà è la bandiera di samuel bellamy che poi diventerà simbolo stesso della pirateria purtroppo piccolo spoiler ci fu una terribile tempesta e bellamy quasi tutti i membri del suo equipaggio morirono in quella tempesta bellamy aveva solo 28 anni quando morì ottavo personaggio di one piece ispirato a un pirata realmente esistito è marshall d touch marshall d touch detto barba nera è capitano della ciurma di barba nera è bene domini marshall d touch è ispirato proprio uguale paro paro quasi a edward touch detto barba nera il pirata penso più famoso al mondo su edward touch in realtà si dovrebbe fare un altro video a parte perché cazzo è barba nera di che stiamo parlando quindi accenno solo a chi era comunque edward touch detto barba nera è stato un pirata molto famoso anche all'epoca proprio per la sua crudeltà perché comunque era un pirata crudele ma anche perché lui proprio se l'è creata la leggenda della sua crudeltà perché lui divenne famoso anche perché quando la gente lo vedeva rimaneva terrorizzata perché sembrava tipo satana in persona perché lui faceva tutti accorgimenti di look e di comportamento perché si metteva tipo delle micce nella barba che lui accendeva e quindi sembrava che dalla barba uscisse del fumo cosa che ovviamente terrorizzava i nemici comunque touch divenne famosissimo all'epoca ed è tuttora famoso in tutto il mondo come uno dei pirati più terribili della storia la fit la fit non avevo idea ma anche lui è ispirato a un pirata realmente esistito la fit in one piece è uno dei membri della ciurma di barba nera e sinceramente per dove sono arrivata io non è che si capisca bene quali poteri abbia vi dico solo che esiste sto personaggio e che è ispirato a jean la fit oh ragazzi sono riuscita a pronunciare bene un nome jean la fit è stato un pirata francese vissuto tra il 1700 e il 1800 di lui sappiamo che è nato da una famiglia aristocratica era un francese aristocratico però purtroppo la sua famiglia venne decattata durante la rivoluzione francese quindi rimase solo e di lui sappiamo però che era abile a conversare in quattro lingue francese inglese spagnolo italiano ah bene anche italiano praticava la pirateria nel golfo di Barataria e a New Orleans ultimo pirata di questo video che devo ammettere che è un po' barato questo pirata non è ispirato a un pirata realmente esistito però è ispirato comunque a una cosa realmente esistita quindi l'ho inserito ok anche perché che cavolo è uno dei pirati più forti al mondo dovevo comunque inserirlo sto parlando ovviamente di Barba Bianca in One Piece Barba Bianca il cui vero nome è Edward Newgate è il pirata più forte al mondo ed è capitano della ciurma di Barba Bianca lui è il capitano della sua ciurma e il diciamo non è il personaggio ma la cosa che ha ispirato il cognome di Barba Bianca quindi Newgate è una prigione la prigione di Newgate a Londra la prigione di Newgate fu una prigione posta all'angolo di Newgate Street e Hold Bylay Street e si tratta di una delle più antiche e terribili prigioni d'Inghilterra è stata costruita verso la fine del XII secolo e rimase in attività per quasi 700 anni cessò le attività nel 1902 e venne smantellata nel 1904 quindi adesso non esiste più questa prigione però è stata una prigione terribile se volete vi cito qualche personaggio famoso che ha risieduto in questa gradevole prigione ce ne sono un botto ne ho soluzionati alcuni per voi Giacomo Casanova iniziamo bene poi abbiamo Daniel Defoe lo scrittore di Robinson Crusoe e Moll Flanders e tra l'altro in Moll Flanders c'è la protagonista Moll Flanders che nasce proprio nella prigione di Newgate quindi è una prigione a cui si è molto affezionato Daniel Defoe poi abbiamo un pirata ragazzi un pirata molto famoso che è stato in questa prigione che è William Kidd William Kidd che anche lui ispirerà un personaggio di One Piece ma molto più avanti quindi non lo citerò è stato uno dei pirati più famosi anche lui del mondo risiedere a Newgate in attesa di essere giustiziato ultimo personaggio famoso è stato Oscar Wilde imprigionato per breve tempo a Newgate nel 1895 prima di essere trasferito nella prigione di Pentonville quindi ragazzi grandi personaggi sono stati in questa prigione se vi interessa adesso al posto della terribile prigione di Newgate a Londra c'è la Corte Suprema di Giustizia Inglese la Hold Bailey e questo è tutto ragazzi per questo video fortunatamente questa volta è stato un video breve questi sono stati i primi 10 pirati che ho incontrato mentre Starry legge One Piece ispirati a pirati realmente esistiti io vi chiedo se vi interessa sapere di altri 10 personaggi di One Piece ispirati a pirati realmente esistiti perché ce ne sono ne ho trovati almeno una ventina se vi interessa un altro video di questa tipologia scrivetelo nei commenti detto questo il video termina qui io vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine se il video vi è piaciuto cliccate mi piace e iscrivetevi al canale se vi interessano altri video di storia però con un tocco nerd attivando ovviamente la campanellina per ricevere le notifiche detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao